Siamo con dei ballerini, accogliamo con un applauso Giorgiana, Sofia, Gabriel e Tiziano E Francesco, chi è? Quanti ne sono? Ah, è perché oggi avevate provato in quattro? Eccoci qua Allora, Francesco chi è? Totti, è lui, tifoso del Lazio, non si era capito, papà che tifa? Tifa Chi è papà? Quello con la macchinetta fotografica? E tifa? Non lo dirà nessuno, c'è il figlio romanista e tu sei interista e sei romano Perfetto, tu invece ti chiami? Giorgiana Quanti anni hai? Nove Sarò io Tu invece quanti anni hai? Otto C'era un'interferenza, quanti anni hai? Sette Quanti? Quattro E se hai capito che hai quattro anni, tu invece ti chiami? Giorgiana Sofì 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 Sofì, quanti anni hai? Vette Sette 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 Gabriel Gabriel Dove vieni Gabriel? A Roma A Roma? Sì E sei il fratello di? Nessuno Età? 8 anni 8 anni Perché 8 ti fa schifo a dirlo, è troppo corto 8 anni, giustamente Perfetto Oh, dolce sin vindus Eccolo qui, ti chiami? Tiziano Come mio padre E' vero, mio padre Tiziano si chiama Tu ti chiami? Tiziano Bene Quanti anni hai? 9 Cosa fai nella vita? Calciatore Allora, calciatore Fai il polpaccio C'è Fai lo stinco No, quello lo fa la chionia Lo stinco di codegli Allora, non perdiamo altro re Allora, voi che cosa fate questa sera? Barade bo E la coreografia è tutta vostra? Sì Bucciardo È nostra la coreografia Va bene, va bene Allora facciamo un applauso di incoraggiamento Ai nostri cinque ballerini Signore e signori La balada Bambi Allora Vabbiamo No, non perdiamo E oggi vanno a rilascire Voi avroti! Voi avroti! Eccolo! Voi avroti! Eccolo! 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 E come fa? E va Francesco di là! Eccolo! 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 concludiamo